Lasciati guidare nel tuo cammino. Il Santone d'Avella, maestro spirituale, interpreta i segni del tuo destino. Profeta in terra, grande veggente, custodere il grande libro della verità, il Santone d'Avella ti aiuterà a risolvere tutti i tuoi problemi. Amore, denaro, egli ti propizierà, allontanando da te ogni forma di energia negativa. Non fermarti alla natura semplice e mortale delle cose. Chiedi consiglio a chi, lungimirante, vede al di là dell'effimero. Se la vita ti sembra troppo buia, se il tuo cammino è troppo difficile, fatti guidare dal grande maestro spirituale, il Santone d'Avella. Egli non ti chiederà denaro e ti condurrà sul sentiero della felicità con la sola forza della fede. Genni, 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 g Mielo, Togai Mielo, Khoielo, Khoielo, Nilavu, Nilavu Noliyo Mielo, Emanuel, Khoielo, 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 Khoie, Khoielo, Khoielo, Kharajhi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.